A Rivarolo per un triangolare internazionale partiamo di qui perché lo sport cresce di livello e non è come diciamo sempre solo calcio. È un grande sforzo organizzativo della Rambucan di Rivarolo ma anche della Ski Italia che con questa gara dimostra la vocazione e la capacità di organizzare eventi di natura internazionale. A questo proposito andiamo avanti con il ciclismo giovanile con sport di alto livello, porteremo in Canavese due gare di campionato italiano femminile molto interessanti perché coinvolgeranno anche le residenze sabaude e insieme oltre alla sei giorni internazionali di ciclismo dove introdurremo alcune iniziative giovanili e non solo ma degli ospiti da un altro continente, dalla Cina, avremo anche il campionato italiano giovanile su pista, una gara molto importante per il settore giovanile in Italia e da tanti anni che manca in Piemonte. Questo con l'obiettivo di valorizzare anche un impianto che proprio l'anno scorso abbiamo inaugurato, ristrutturato con un importante finanziamento regionale. E poi il softball anche. E poi anche altre discipline, non ci fermiamo mai, ci saranno gli europei di softball che coinvolgeranno la loggia avigliana, un campionato europeo che anche questo mancava all'appello da tanti anni e che grazie a Regione Piemonte si è rintrodotto. Per poi andare avanti su altre discipline ancora ci saranno i mondiali di scherma quest'inverno, la prossima stagione e ci saranno anche altre emozioni che andremo a ripercorrere e stare facendo. È tempo già un po' di fare i bilanci di questo progetto che unisce lo sport con il territorio. Qual è questo bilancio? È un bilancio senza dubbio positivo che va ovviamente incalzato, va cresciuto di eventi ma anche di capacità di accoglienza per la quale stiamo avendo delle ottime risposte. Questi eventi servono a richiamare l'attenzione del territorio, un territorio che può offrire tantissimo soprattutto all'aperto in una stagione come questa che si sta aprendo e che offre davvero tanto. Non dimentichiamo che a Ivrea ci saranno i campionati mondiali di canoa slalom e proprio in un impianto che grazie a un accordo di programma stipulato tra Comune di Ivrea e Regione Piemonte avrà sempre più gli occhi internazionali addosso. Quindi questo per noi è un fiore all'occhiello, vogliamo continuare così.